La settimana dedicata al tema dei cambiamenti climatici si conclude domani con uno sciopero nazionale che coinvolgerà anche la scuola. Lo sciopero è stato proclamato da FLC, CGL, Cobas, Unicobas, USB e altri sindacati di base. Sindacati che per la verità protestano non solo per la scarsa attenzione dei governi nazionali nei confronti dei problemi ambientali, ma anche per sottolineare la necessità di rimettere in discussione il modello di sviluppo e gli stili di vita dei paesi più industrializzati. In concomitanza ci saranno anche una manifestazione nazionale a Roma e numerose altre iniziative in tutte le principali città italiane. In vista dello sciopero il ministro è intervenuto con una circolare ufficiale per chiedere alle scuole di valutare con molta attenzione il problema delle assenze degli studenti e su questa nota si è innescata una vivace polemica. Ma è legittimo, si sono chiesti in tanti, che un ministro della Repubblica affermi, come ha fatto appunto Fioramonti, che una manifestazione per il clima abbia un valore superiore addirittura ad una giornata di scuola? In questo modo non si corre il rischio di delegittimare la funzione educativa e culturale della scuola? La FLC-CGL, per bocca del segretario nazionale Francesco Sinopoli, ha espresso la propria soddisfazione per la presa di posizione del ministro, ma non tutti hanno mostrato di condividere il pensiero del sindacato. D'altronde l'esito del sondaggio promosso su Facebook dalla nostra testata è indicativo. I nostri lettori si sono divisi quasi a metà. Il 45% ha dichiarato di non apprezzare la circolare del ministro e il 55% si è invece mostrato favorevole. Esito analogo ha avuto lo stesso sondaggio da noi proposto nel canale Instagram. Nelle ultime ore Fioramonti ha chiarito il senso della circolare. Dovranno essere le famiglie a giustificare l'assenza dello studente, ma la scuola potrà accettare anche una motivazione del tipo è stato assente perché ha partecipato alla manifestazione cittadina. Insomma, a conti fatti, giusto o sbagliato che sia, lo sciopero degli studenti del 27 settembre passerà alla storia per essere il primo ad avere l'approvazione del ministro. Ovviamente su questo tema noi ritorneremo su questo canale, ma anche nel nostro portale, quindi continuate a seguirci su www.tecnicadelascuola.it, continuate a scriverci e a mandarci le vostre proposte, le vostre sensazioni, i vostri commenti. Grazie. 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 Grazie.